Ciao amici, ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia Allora, come state spero, ma molto, ma molto, ma molto bene Come avete letto dal titolo, oggi andrò a rivedere dei miei vecchi video Cioè, io sono stra in panico perché quei video li avrò puntati due volte Mi ha già fatto qualcosa, ma fai niente baby In pratica, andrò a vedere appunto questi miei vecchi video Come vedete, io sono qua, ora sulla mia pagina YouTube del mio canale per andare a vederli insieme Comunque ragazzi, vi ringrazio tantissimo per i 50 iscritti Cioè, veramente grazie Però, visto che voi me lo state chiedendo tantissimo Quando uscirà il video dove ci... lo speciale di 50 iscritti Lo vi ho avuto tantissimi E vi dirò una cosa Arriverà tra pochissimo Aspettate tipo... non lo so quanto più o meno Però aspettate un pochino perché è una cosa molto lunga Che se la devo fare, la devo fare bene Perché io sono fatta così Quindi adesso vi... Eh, beh, non so neanche più parlare Quindi direi subito di iniziare con il video Allora Io, la prima volta che mi sono iscritta... cioè, ho fatto il mio canale YouTube Il mio primo video è stato due anni fa Cioè, quindi avevo... non mi ricordo quanti anni Però andiamo subito a vedere questo video assieme E faccio la reaction E poi credo che ci sarà anche ad altri video la reaction Quindi preparatevi a tutto Uh, vado Ciao ragazzi, oggi parliamo della matematica Le addizioni che la somma fa due Le addizioni hanno una cifra Due cifre, tre cifre Quante ne vogliamo Adesso proviamo a farne qualcuna Non sapete quante volte... Cifre di te, la scriviamo Fai ferma Non sapete quante volte io questo video l'avevo rifatto Perché non lo so cos'è che era successo Tipo, avevo paura che sbagliavo qualcosa Tutte queste cose Quindi l'avevo tipo rifatto 50.000 volte Ma dettagli Prima in rega e dopo in colonna Va bene 5 più 3 avevano detto La scriviamo Questa l'abbiamo scritta in rega Adesso la scriviamo in colonna 5 più 3 5 6 7 8 Fa 8 No, va bene E lo scriviamo anche in rega Però ragazzi, ricordatevi Che non è Non sarebbe anche così giusta Dobbiamo sempre verificarlo E Cioè l'operazione inversa E dobbiamo fare quindi Per verificarlo 3 più 5 Oh mio Dio Ero sempre parata 3 più 5 Fa 3 4 5 6 7 8 Il risultato è questo Adesso proviamo a farle con due cifre Cioè 10 più 4 Proviamo a farla La scriviamo sempre in rega E dopo in colonna Sfede la mano di mio padre 10 più 4 Non mi ricordo Scriviamo sempre a aiutarlo A fare questo video Vabbè Dettagli 10 più 4 L'abbiamo scritta in rega Adesso andiamo a scrivere in colonna Perfetto Tanto il mio padre O mia mamma Adesso non mi ricordo Che mi aveva aiutato A registrare questo video Ma Avevo segnato Ok Avevo segnato Mi aveva fatto tipo il bigliettino Per ricordarmi Quale operazione dovevo fare Perché se no andavo in panico Non so perché Boh Vabbè Comunque ragazzi Sto morendo ad arrivare All'età 0 più 4 4 1 più 0 1 Ero pure indecisa Adesso andiamo a verificarlo Con la prova E' sempre L'operazione in terza Ok L'operazione in terza 4 più 0 4 Ok 0 più 1 1 Come ho detto 1 Il risultato E' 14 Oh mamma Adesso Proviamo a farla Con 3 cilie Vado a cancellare Wow Mamma mia C'è veramente Con 3 cifre E' 113 Perché è proprio 113 Più 4 103 Vabbè Sono veramente curiosa Raca Perché E il 3 Dov'è? 113 Ragazzi mi raccomando Non partite mai Dalle decine Oppure dalle migliaia O Qualse Dovete partire Dovete partire Sempre dalle unità L'unità E' la U Si sente con una U Si segna Ok Adesso 4 più 3 4 5 6 7 Fa 7 Wow Wow 1 Più 0 1 E 1 Più 0 1 No vabbè Adesso Ragazzi Facciamo La prova Ma però Anche là In ginocchio Perché Non ci scava La videocamera Cioè Il telefono Perché A quell'epoca Avevo registrato Con il mio telefono Avendo registrato Con il mio telefono Non riuscivo Perché ero tipo Su una sedia L'avevo utilizzato Come tra i piedi Vabbè No Come lo strano Cioè 4 più 3 113 4 più 3 7 1 più 1 1 Cioè E 1 più 0 1 No ma non ci ho messo 10 secondi Per scrivere Ecco qua Il risultato è uguale Quindi adesso Prendiamo E andiamo A trascrivere In New York Che poi Non guardiamo mai La telecamera Ma Il dettaglio Mamma mia Ricordatevi ragazzi Che cambiando L'ordine Degli attenti Il risultato Non cazzo Ma adesso Probbiamo andare A notare Ancora Due cifre Ma in un altro modo Un altro modo? Quanti modi esistono? In che senso è un altro modo? Non lo vedevo da un botto sto video Per questo non so Questo qua magari potrebbe essere Un po' più difficile 12 più 12 Lo ne ho scritto in video E lo ho scritto in coro 12 più 12 L'abbiamo scritto in video Adesso dobbiamo attivare in coro Perfetto Mi parte sempre dalle unità Ha capito? Adesso dobbiamo andarlo a fare 2 più 2 è 4 E 1 più 1 2 Il risultato è 24 Adesso andiamo a controllare Facendo la prova Perfetto Attendi Sono uguali? In questo caso Visto che i due addendi Sono uguali È uguale Se metti prima questo va bene Se metti prima questo va bene Non importa Ok Perfetto Grazie mille 2 è 4 1 più 1 2 Il risultato è questo È uguale Quindi adesso andiamo a capirlo In arrivo Wow Che brava che sono state Ragazzi mi raccomando Non dovete fare casino Ok? Quindi se non avete qualcosa Spriate una cosa sotto i commenti Adesso faccio Adesso faccio No vabbè Non fate casino Adesso ragazzi Sono curiosissima di andare a vedere Cioè Non credo Che sotto questo video Ci siano i commenti Perché youtube Li blocca Per la privacy Eccetera Però ragazzi Sono veramente curiosa Allora Video Perfetto L'ultimo video Che ho registrato Le addizioni Sì infatti Non ci sono Zero commenti Zero commenti Cioè Vabbè Lasciamo stare Perfetto Andiamo avanti Trancello Quindi scriviamo Ci dovremmo fare 125 Più 125 Ok 125 Più 125 Perfetto Andiamo avanti Abbiamo scritto in riga Ora andiamo a scrivere in colonna Il numerino 1 Lo mettiamo No no Ho perso la spiegazione Il numerino 1 Non è 10 Il numerino 1 Lo mettiamo Per ricordarcelo Sotto Il 2 Aspetta Non ho capito Sopra o sotto Sotto Io lo mettevo sempre sotto Ma proprio Un piccolino Sotto Un piccolino Quindi sotto Sotto Vedete adesso Non so se si vede bene Però è un 1 Più piccolo Ok 2 2 Più 2 Fa 4 Più 1 5 Non lo fai ragazzi come giusti colavo 1 Più 1 Fa 2 No Perché 2 Ah non mi piaceva come l'avevo fatto Perché io ragazzi Tipo questo vizio Che in pratica Se un titolo io magari lo sbaglio Oppure non lo scrivo bene come voglio io Prendo e devo rifare tutto Cioè proprio strappo la pagina E lo rifaccio Fin quando non mi esce bene Sennò io quel computer Devo continuare a fare Cioè una cosa Un po' di condizioni Vabbè Sono strappo Verificare se è giusto Andiamo a verificare 5 più 5 10 Il numero 1 Lo mettiamo sempre sotto Il secondo 2 Capito Sempre 1 in piccolo Ok 2 più 2 4 Più 1 Più 1 5 Lo andiamo a scrivere 1 più 1 2 Lo andiamo a scrivere Il risultato ci è uscito uguale Perfetto 250 Adesso andiamo a scriverlo in Riga Oh mamma Ha uscito uguale cose di Youtube Ma dettagli Perfetto Io direi che per questo video è tutto Oh mio Dio Spero che non dovrò fare reaction agli altri video Però se voi lo volete Li faccio Oh mio Dio che bello Questo qua dove mi presenta La mia pagina Bellissimo questo video Comunque io direi che per questo video è tutto Noi ci vediamo con un prossimo video E niente Mi raccomando Iscrivetevi al canale Prossimo obiettivo I 75 iscritti Mi raccomando Ora siamo a 58 Quindi Boom Voglio un boom spettacolare quest'anno Ok E niente Lasciate un bellissimo pollice giù Se questo video vi è piaciuto In più Iscrivetevi al canale E anche Attivate la campanella Per ricevere le notifiche Andate a questo nuovo video Ciao E al prossimo video Ciao Ciao